Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Quanto tempo che non facevo video su questo canale! Ebbene sì, ci sono state tantissime novità, come potete vedere, microfono nuovo e quant'altro, però andiamo subito al punto della situazione, perché a me piace andare direttamente al punto della situazione, non mi piace girare intorno all'argomento del video. Il video di oggi, come avete intuito già dal titolo, è un altro video di speedtest di internet. Non facevo un video del genere dal 2016, mi pare, 2015 o 2016. Da quando praticamente ho avuto la connessione a 100 MB della team, beh, diciamo che la telecamera non mette a fuoco e questo è un problema. Il motivo per cui non ho fatto più altri video di questo genere è molto semplice. Cioè, non ho avuto la necessità, non ho cambiato più linea e non ho avuto altri cambiamenti enormi della linea e quindi non ho avuto la necessità di fare video di questo genere. Ma adesso le cose sono cambiate, perché finalmente, finalmente ragazzi, siamo passati alla 2.5 Gigabit. E diciamo che il cambiamento è notevole, ma premetto una cosa. Per poter usufruire al 100% diciamo di questa linea, ho dovuto anche acquistare un router adeguato. Ho comprato l'Asus GT AX6000, un router abbastanza costoso, però allo stesso tempo perfetto per quanto riguarda la connettività 2.5 Gigabit. Infatti ha una porta WAN 2.5 collegata all'OND e poi un'altra porta RJ45 da 2.5 Gigabit a cui ho collegato direttamente il mio PC. E poi questo router ha pure altre 4 porte Ethernet da 1 Gigabit a cui ho collegato altre cose. Il portatile di mia madre, ad esempio, console e quant'altro. Inoltre questo router ha pure il Wi-Fi 6, tecnologia Wi-Fi 6, che permette di connettersi in Wi-Fi a 5 GHz fino a 1200 Megabit per second. Che è una velocità notevole. Appena arriveremo allo speed test Wi-Fi vi faccio vedere appunto la differenza tra il 2.4 tradizionale e il 5 GHz in Wi-Fi 6. Sarà un video abbastanza lungo, più lungo degli speed test che ho fatto 6 anni fa, quindi prendetevi dei popcorn, prendetevi una bibita o gelato, quello che preferite, e iniziamo subito con gli speed test. Ok, quindi, il gestore a cui sono passato è Aruba, che è un gestore abbastanza buono devo dire, loro offrono anche altri servizi, sono più che altro conosciuti nel mondo del web hosting per VPS, domini e quant'altro. Però, almeno di recente a quanto pare, adesso offrono anche servizi di connessione a fibra ottica e io quindi ho fatto il contratto di Aruba, della FTTH, 2.5 Gigabit di download e 500 Megabit di upload. Per qualche motivo non è una connessione simmetrica. Magari in futuro offriranno anche loro una connessione simmetrica, 2.5, down e up, chissà, o magari anche di più. Comunque sia, adesso facciamo subito dei speed test su questa nuova linea. È già qualche giorno che avevo in mente di fare questo video, però ho rimandato per problemi tecnici e finalmente eccoci qui. Cercherò di fare questo video nel modo quanto più esaustivo possibile, come ho fatto più di sei anni fa con le mie vecchie connessioni e cercherò di fare tutti i speed test che la gente desidera vedere, soprattutto download effettivi e non mi limiterò soltanto a speedtest.net oppure speedtest.byucla, versione app come quella che state vedendo adesso. Premetto una cosa, in questo momento nel server di Roma Unidata c'è dei problemi, quindi schippiamo il test su questo server e passiamo direttamente al test su Aruba SPA di Arezzo. Adesso vi faccio vedere perché. Prima faccio lo speedtest su questo, dopo lo faccio su Unidata e vi faccio vedere che hanno dei problemi loro al server. Quindi, innanzitutto, come potete vedere, abbiamo un ping di 18-17, per qualche motivo ho questa latenza così bassa soltanto quando faccio gli speedtest su server Aruba. Su qualunque altro server, comunque sia, ho un ping che è veramente orrendo. Quindi, come ping, devo dire, questa contestazione fa schifo. Quindi, ciò che è vero, lo dico, il ping fa schifo. Ma il download, guardate qua, 2208 Mbps, vuol dire quasi 2.1 Gbps. L'upload raggiunge anche i 450 a volte, vi faccio vedere la cronologia degli speedtest. Ho già fatto più di 128 test in questi giorni. E potete vedere qua il mio record è stato di 420, no, 461 in upload e 2348 in download. Sempre su server Aruba, perché vedete il ping 17. Se adesso io andassi a fare il test su Roma, invece, il classico server, a meno che non hanno fissato adesso in questo momento, ok, hanno fissato a quanto pare, no, non hanno fissato, ottengo quasi la metà di download di quanto normalmente dovrei avere. 1067, ping 21, e upload 300... No. L'upload è leggermente più alto, forse no, forse sì? Sì, leggermente più alto rispetto a quello del server Aruba. Ma il download è notevolmente la metà. Quindi mettiamo questo, lo avrete finito adesso. Ora, per fare una piccola comparazione, faccio lo speedtest anche sul sito di speedtest.net, giusto per farvi vedere che l'app riesce a raggiungere leggermente di più rispetto alla versione browser. Infatti la versione browser a volte è stenta anche ad arrivare a 2000, mentre la versione app raggiunge i 2000 tranquillamente. Questa è una cosa che volevo farvi anche notare, quindi se volete fare degli speedtest un po' più accurati, utilizzate la versione app rispetto alla versione browser, perché come potete vedere, riesce a raggiungere dei valori più alti con lo stesso identico server. E anche il ping, 17ms contro 19 della versione browser. Stessa cosa anche l'upload è più alto nella versione app che nella versione browser del sito. Una cosa che non capisco per quale motivo la versione del sito e la versione app di Windows non abbiano ancora la metrica in megabyte per second, in bytes. La versione invece per telefono, la versione Android e iOS invece ce l'ha. Quindi quando farò lo speedtest del Wi-Fi lo faremo sia in bytes che in bits. Ok. E adesso farò anche gli stessi test che ho fatto più di sei anni fa. Ho fatto eccezione per Speed of Me perché fa schifo come speedtest. Ultimamente fa... Fa schifo. Fidatevi, non utilizzate quello speedtest perché fa veramente schifo. E se non ci credete vi faccio vedere velocemente. Guardate. Cioè. Cioè. Neanche... Neanche 100 megabit per second raggiunge sto speedtest. Neanche 100. 147 massima. Non utilizzate questo speedtest. All'epoca l'ho raccomandato, l'ho consigliato perché era buono. Ma adesso a quanto pare... A quanto pare... Boh. Hanno dei server che fanno schifo. Il secondo speedtest che voglio fare invece è testmy.net. Questo è un altro sito che non è affidabile. Però rispetto a Speed of Me dà dei risultati leggermente migliori. Ricordatevi, importantissimo, abilitate il multitread in alto in modo da poter utilizzare le connessioni multiple per i test. E quindi facciamo un test combinato. Vediamo se testmy.net quanto mi dà di risultati. Ok. 607 megabit per secondi download. 76 megabit al secondo. Mentre di upload misero 64. Ok. Testmy.net è un altro sito che non ha dei valori realistici. Devo dire. A questo punto faremo anche il test di upload su YouTube. Ovviamente. Così come ho fatto nello speedtest della connessione Team 100 mega. Mi ricordo. E vi faccio vedere quanto è veloce. È assurdo. Ok. Eccoci qui su YouTube. Sulla pagina di upload video. Sono sul canale secondario. Ovvero quello su cui ho caricato questo video che state vedendo in questo momento. Ho qua un file di 962 megabyte. In genere i miei video non pesano mai più di un giga. Cioè cerco di ottimizzarli quanto il meglio possibile con FFmpeg. Prendiamo ad esempio questo file quindi di 972 megabyte. Vediamo quanto ci mette teoricamente a caricarsi su YouTube. Vedete 5 minuti di upload. Inoltre grazie a questo tool qui chiamato NetSpeed Meter possiamo vedere in tempo reale la velocità a cui quanto sta caricando in questo momento. Potete vedere che su YouTube sta facendo un upload misero di neanche 40 neanche 50 megabit per second per qualche motivo. Quindi in realtà se utilizzasse la connessione effettiva e caricasse effettivamente a 300 megabit per second ci metterebbe molto meno rispetto a quanto ci sta mettendo in questo momento in 5 minuti. Comunque anche 5 minuti volendo è un tempo accettabile per me almeno. Magari è un problema di Firefox adesso farò lo stesso test con Google Chrome perché magari molti di voi utilizzano Google Chrome. Ok eccoci qui su Google Chrome sempre con lo stesso account ovviamente e adesso andrò a caricare lo stesso file e vediamo se è un problema di Firefox il fatto che stava facendo l'upload a neanche 50 megabit per second anche perché molti di voi utilizzano Google Chrome probabilmente quindi ok come potete vedere Google Chrome sta caricando molto più velocemente ci mette neanche 20 secondi per fare l'upload quindi è decisamente un problema di Firefox il fatto che l'upload fosse così lento potete vedere qua sta caricando a 300 megabit per second ci ha messo neanche 20 secondi già il video è caricato temolo privato subito salva prima che si pubblica potete vedere ha fatto subito l'upload in neanche 20 secondi di 972 megabyte fenomenale direi che direi che per caricare i video utilizzerò Google Chrome adesso voglio fare lo speedtest dal sito di speedtest.net anche da Google Chrome giusto per curiosità è più o meno uguale a Firefox lo speedtest però per l'upload direi che è molto meglio Google Chrome bene eccoci qui il momento che stavate aspettando di questo di questo speedtest il download da Steam e Origin come promesso perché faremo un test download sia da Origin che da Steam e secondo me questi sono gli speedtest veri non speedtest.com numeri e quant'altro ma vedere appunto quanto scaricano le applicazioni che utilizzeremo più frequentemente quali ad esempio appunto Steam Origin e quant'altro anche i browser quindi facciamo dei speedtest su Steam il primo speedtest voglio fare il download di Doom Eternal un gioco di 89 GB si è ingiocciato parecchio sul gioco ultimamente vediamo se ho un drive ok qua ho abbastanza spazio è bello che come tempo stimato mi da un giorno e 11 ore alla velocità di 517 KB al secondo eh già i vecchi tempi in cui non avevo neanche un MB al secondo di download ci metteva giornate intere per scaricarmi i giochi me lo ricordo perfettamente oppure mi ricordo anche quando Doom Eternal stesso pesava circa 60 GB e ci stava un'ora per scaricarmelo con la 100 MB bene vediamo quanto ci mette adesso con la 2.5 di Aruba Steam va un po' a culo questo devo dirlo perché alcuni giochi scaricano più lentamente di altri dipende anche poi dall'orario dipende dal server l'orario del server dipende da molti fattori alcune volte hai la botta di culo che il gioco ti scarica subito a 120-130 MB al secondo alcune volte invece come in questo momento ad esempio deve carburare un po' e poi dopo un po' inizia a fare i picchi di download più alti in questo momento infatti sta scaricando a 59 ma lentamente la velocità dovrebbe andare aumentando il motivo poi per cui voglio fare lo speed test anche su Origin è perché ho notato che Origin è molto più stabile nei download rispetto a Steam per qualche motivo Origin mi scarica sempre a velocità altissima mi scarica sempre a 120-130-140 MB al secondo mentre Steam per qualche motivo sempre per la questione ok giochi compressi in modo diverso orari differenti traffico del server e quant'altro scarica a velocità svariate ma Origin riesce ad essere sempre costante qualunque orario qualunque gioco scarica sempre una bomba non capisco per quale motivo Steam non possa essere uguale se avete qualche idea lasciate un commento qua sotto il video nel frattempo come potete vedere il download dei Doom Eternal è salito un pochettino adesso sta arrivando a 72 MB tra un po' dovrebbe comunque iniziare a salire e arrivare anche alla centinaia un trucchetto che a volte funziona è quello di mettere in pausa e riprendere il download a volte lo aiuta un pochettino ad andare più veloce potete vedere in questo caso ha funzionato adesso sta andando a 82 un'altra cosa dipende molto anche dal disco in cui state scaricando ad esempio se io avessi una 10 gigabit che potesse scaricare a 940 megabit al secondo per dire ma ho un hard disk meccanico che può fare massimo 400 megabit al secondo è ovvio che non avrò mai un download di 940 megabit al secondo anche se la linea può farcela perché avrei comunque la limitazione hardware del disco nel mio caso il problema non si pone perché scarico sempre questi giochi su NVMe che possono raggiungere i 2 gigabyte al secondo quindi non ho teoricamente nessuna limitazione a livello hardware la limitazione qui è tutta di rete infatti adesso noterete che appena farò lo speedtest da origin scatterà subito con le centinaia di megabit al secondo comunque prima di passare a origin voglio fare un test veloce anche su qualche altro gioco che finora mi ha dato quasi sempre dei buoni risultati di velocità uno di questi ad esempio è GTA 5 questo è un gioco che è stato abbastanza stabile nei download ultimamente e mi ha dato sempre dei buoni risultati quindi adesso vediamo se riusciamo a raggiungere i 100 megabit al secondo con GTA 5 potete vedere già la velocità è notevolmente diversa rispetto a quella di Doom Eternal soltanto cambiando gioco adesso siamo già 103 106 107 115 116 ora non mi ricordo quale gioco è stato ma sono riuscito ad avere un peak massimo di 195 megabyte al secondo una volta ma non ho idea di quale gioco sia stato purtroppo comunque potete vedere anche 120 megabyte al secondo per dire 14 minuti per scaricare 105 gigabyte di gioco direi che è buono cioè non è certo istantaneo appena appena metti install già subito è pronto però 14 minuti per 105 giga direi che è ottimo cioè considerando che la primissima volta che scaricai GTA 5 quando è uscito praticamente mi ci ha messo l'intera settimana del preload per scaricarsi perché mi ricordo che hanno messo il preload una settimana prima del rilascio ufficiale io avevo messo il download del gioco proprio quando hanno messo il preload e ha finito di scaricarsi il giorno in cui è uscito cioè io ne ricordo perfettamente questa cosa nel 2015 quando è uscito per per pc è stato veramente assurdo perché all'epoca avevo ancora una connessione veramente schifosa avevo la 20 mega probabilmente e scaricava lentissimo ci ha messo 7 giorni per scaricarsi e non pesava neanche 100 giga ancora pesava un po' meno adesso invece che pesa 105 giga ci metterebbe circa 12 13 15 minuti con questa velocità qui direi che è eccellente è fantastico cioè io potrei tranquillamente stare qui aspettare anche questo quarto d'ora per dire già l'avrei pronto ovviamente su un disco che non è pieno preferibilmente come potete vedere mi ha fatto un pic di 132.2 megameter al secondo adesso passiamo agli speedtest di Origin perché so che siete curiosissimi di vedere le velocità che riesce a fare Origin rispetto a Steam e devo dirvi sì la differenza c'è ora metterò a scaricare dei giochi comunemente a caso giusto per vedere la velocità partiamo ad esempio da Sim City per esempio facciamo Accept Next Next e potete vedere qui che già subito immediatamente 104 111 116 121 124 126 130 e boom finito c'è stabilissimo non affatto come Steam che è andato gradualmente no 20 40 60 80 no Origin per qualche motivo è super performante c'è potrà avere quanti problemi volete Origin e ce li ha dei problemi di certo non vado neanche a utilizzare i play perché quello fa veramente schifo però come server proprio come stabilità di download come server è fenomenale cioè ad esempio ok Sim City è un gioco che non pesa niente mettiamo a scadrare un gioco a caso più pesante tipo Battlefield 5 per esempio facciamo next ok next e anche questo vedere si ci va gradualmente però ci arriva relativamente subito ai 100 mega 80 siamo già 81 in modo molto stabile non fa su e giù come Steam 82 potete vedere Origin sale verso l'alto la velocità va verso l'alto invece Steam fa su e giù potete vedere qui ad esempio un bel esempio di su e giù abbiamo un download quasi stabile a 130 megapixel al secondo e poi all'improvviso ha droppato giù 46 38 e poi stava tornando di nuovo su Origin invece non fa questa cosa Origin invece potete vedere la velocità sale e va avanti 145 147 addirittura 148 megabit al secondo cioè è assurdo è assurdo guardate qua 90 giga di gioco in 8 minuti 162 megabit al secondo e prima qualche ora fa prima che facessi il video è arrivato addirittura più di 200 megabit al secondo non so se ci arriverà mai più non so che botta di culo è stata per un attimo è arrivato a più di 200 megabit al secondo e poi 100 di nuovo però comunque come potete vedere Origin rispetto a Steam è molto più veloce ad esempio qua mi sta facendo 157 megabit al secondo mentre Steam mi ha fatto un pick di 132 ma ripeto dipende dall'orario dipende dal server l'orario del server la congestione del server per Steam e anche il gioco stesso il modo come è compresso a volte incide sul sul download comunque andiamo al download perché non mi interessa ma troppo il 5 solo fai vedere la velocità di download utilizzo questi diciamo come speedtest effettivi più di speedtest.net io personalmente preferisco fare speedtest reali scaricando direttamente da Steam da Origin e vedere effettivamente a quanto scarica a me interessa vedere la velocità effettiva reale dell'utilizzo effettivo delle applicazioni non soltanto su un sito o su un'app quale ad esempio speedtest perché ok si va bene molto figo premiamo go si connette vediamo subito boom sale arriva a 2000 che è bellissimo mi piace ovvio che mi piace cioè a chi è che non piacerebbe vedere una connessione così bella però un conto è vederlo soltanto su una singola applicazione che fa vedere soltanto dei numeri un conto è vedere anche effettivamente dei download effettivi a quanto poi arriva perché ad esempio con 2000 megabit per second dovrebbe arrivare anche un pochettino di più di 150 megabit al secondo per dire il record di 2.3 gigabit per second che ho avuto su speedtest dovrebbe portarmi a almeno 200 megabit al secondo penso infatti Origin li ha sfiorati per un attimo tuttavia c'è un altro test che voglio farvi vedere ancora non mi capacito come sia possibile ma in questo test tra poco vedrete 300 megabit al secondo ed è l'unico l'unico download finora col quale sono riuscito a raggiungere i 300 megabit al secondo esiste questo sito chiamato build somtech che praticamente mette a disposizione dei file dummy dei file compressi che non contengono niente soltanto della roba che fanno gonfiare il peso di 100 giga 50 giga 10 giga 5 giga diverse dimensioni quanto volete ora la cosa che mi ha stupito è che per qualche motivo il download di questi file mi arriva a raggiungere i 300 megabit al secondo non ci credete? guardate il download di questi file riesce a rinunire tranquillamente 270 anche 300 megabit al secondo però già potete vedere più di 200 megabyte al secondo di velocità 100 gigabyte in 6 minuti è una cosa veramente assurda e io ora mi chiedo per quale motivo né Origin né Steam riescono a raggiungere questa velocità che la mia linea riesce effettivamente a raggiungere soltanto con il download di questi file da questo sito ottengo questa velocità assurda ora chiaramente sempre una questione di server la velocità del server ok va bene ma Steam da quanto io sappia non ha dei veri e propri limiti di velocità c'è gente che riesce a scaricare anche a 900 del secondo ho avuto delle prove non so per quale motivo la mia linea riesce a raggiungere questa velocità ma su Steam stenta ad esempio a raggiungermi anche i 150 per dire non che mi lamento perché comunque anche i 120 150 che riesce a farmi Steam li adoro perché veramente sono fantastici cioè anche quei 15 minuti quei 10 minuti in più rispetto a quanto ci metterebbe con questa velocità per me stanno anche benissimo perché c'è un conto è aspettare 15 minuti un conto è aspettare una settimana per il download di GTA 5 però giusto mi chiedo giusto per completezza per quale motivo la mia linea riesce a farla questa velocità però neanche Origin che è così stabile riesce a raggiungere questa velocità ora non so non so sarà un limite del loro server sarà sarà qualcos'altro continuerò a testare proverò ancora altri server di Steam col tempo li andrò a provare tutti quelli che ci sono i server di download perché su Steam per i download non dovete per forza mettere il server più vicino a voi perché per il download non ha importanza il ping ha importanza la congestione del server quindi ha molto più senso mettere un server su Steam nel momento in cui in quella parte del mondo ad esempio è notte ad esempio che ne so da noi è pieno pomeriggio e dall'altro lato del mondo in Australia per esempio sono le 4 di notte allora andiamo a mettere un server australiano e dovrebbe in teoria scaricare un pochettino meglio perché c'è meno congestione su quel server perché la maggior parte della gente in Australia in quel momento dorme quindi c'è meno download meno congestione appunto però ripeto è un esperimento da fare ovviamente è un esperimento che richiede parecchio tempo se mai dovessi avere dei risultati farò poi un video di aggiornamento in cui vi appunto aggiornerò sui risultati dei vari test che che ho fatto sui diversi server di Steam non posso fare tanti test su Origin però perché a quanto pare non mi fa scegliere un server cioè al server a cui si connette scarichi da quello e basta poi abbiamo dei casi particolari come Battle.net ed Epic che scaricano a una velocità orrenda hanno dei server veramente schifosi quindi potete avere anche la 10 gigabit ma i download da Battle.net ed Epic saranno sempre quelli cioè è ridicolo intanto qui mi sta scaricando questi 100 gigabyte come se non fosse nulla più di 260 megabit al secondo quindi già questo per esempio è un altro speedtest che vi consiglio di fare il sito si chiama buildsometech.com ovviamente metterò poi il link giù nella descrizione del video e qui potete trovare dei file di diverse dimensioni poi abbiamo file ostati appunto da loro e file ostati su Google dividiamo ad esempio 1 gigabyte da Google quando ci mette a scaricarsi praticamente velocissimo 70 megabit al secondo da Google e ha finito poi se volete c'è anche il file da 200 gigabyte penso di aver fatto tutti i test per quanto riguarda la connessione via Ethernet adesso passiamo ai test wifi ok eccoci qui adesso con i test wifi in questo momento sono connesso nella mia rete wifi in 5G potete vedere qui abbiamo la connessione in wifi 6 e come connexion speed mi segna 1200 megabit per second un'altra cosa interessante di questo mio router dell'Asus GT iX6000 è che per qualche motivo sono nella sottorrete .50 .1 ho provato anche a cambiarlo e mettere .1 .1 ma rompe tutto quindi ho dovuto lasciarlo così adesso avviero speed test sul telefono e facciamo uno speed test in in bytes e anche in bits giusto per vedere la velocità del wifi tengo anche a precisare che il router è qui a fianco a me quindi vicinissimo e quindi ho la velocità massima che posso raggiungere se ad esempio faccio lo speed test da un'altra stanza avrò una velocità leggermente più bassa però comunque rispetto a qualunque altro router che ho avuto finora devo dire che il wifi di questo router qui con questi antennoni che si ritrova è abbastanza stabile cioè riesce a prendermi più o meno ovunque in tutta la casa ok eccoci qui adesso siamo su speed test in questo momento siamo su megabyte per second e questa è l'unica versione dell'app di speed test che ha questa feature che riesce a a mostrare i test in bytes per qualche motivo sia quella desktop sia quella del browser non ha megabyte per second quindi facciamo subito il primo speed test potete vedere abbiamo un ping più alto rispetto al al pc collegato via ethernet e come velocità di download più o meno 100 megabyte al secondo e come upload siamo a più o meno 25 megabyte al secondo adesso facciamo uno speed test anche in bits così vediamo in bits quanto raggiunge effettivamente e siamo più o meno ai 700 megabit al secondo quasi 800 ogni tanto riesce a raggiungere anche i 900 come upload siamo sui 200 380 megabit per second però ogni tanto raggiungo anche i 200 adesso vado nella cronologia e vi faccio vedere infatti i test più alti ha raggiunto anche 937 926 923 e come upload ha raggiunto anche i 318 sempre in wifi 5 e in scusate in wifi 5g wifi 6 se io mi avvicinassi di più al modem forse ecco adesso siamo sugli 800 e come upload siamo più o meno 300 303 di upload non male devo dire niente male considerando che siamo in wifi ma adesso ovviamente anche qui non mi basta fare uno speed test soltanto utilizzato speed test voglio vedere la velocità effettiva di download quindi adesso andiamo a scaricare qualcosa dal play store che sia abbastanza consistente e vediamo a quanto scarica dal play store ok eccoci qui nel play store mettiamo ad esempio asphalt che dovrebbe avere un certo peso e se ho spazio al telefono spero di sì non ho lo spazio al telefono ok vediamo se adesso ve lo fa scaricare ho liberato un po' di spazio sul telefono ecco qua potete vedere il download da play store va circa 36 megabyte al secondo sempre nel wifi ok 56 sta aumentando un po' lo potete vedere qua sopra in alto la velocità di download stiamo scaricando asphalt 9 in wifi 5g wifi 6 2.5 gigabyte di gioco si sta scaricando abbastanza velocemente devo dire vabbè 8 adesso adesso è rallentato parecchio devo dire però 19 ok ok come velocità è veramente instabile abbastanza instabile almeno dal play store da quello che sto vedendo in questo momento più che altro vediamo adesso finito il download se c'è da fare anche un altro download dopo ci sono dei giochi che si scaricano dal play store e poi fanno il download di altri dati al primo avvio ok non ce la fa non non c'è abbastanza spazio mi sa comunque abbiamo visto la velocità di download del play store varia dai 30 8 megabit al secondo 18 anche 50 megabit al secondo non è una velocità stabile è abbastanza instabile come velocità di download da google play store adesso vediamo di nuovo 43 potete vedere qua sopra 46 21 è abbastanza instabile ok proviamo un altro download a caso ad esempio questo non so ok 131 megabyte non pesa nulla a sto gioco vediamo un gioco che sono sicuro che abbia da fare il download una volta scaricato dal play store e hearthstone sono sicurissimo perché mi ricordo che quando ci giocavo sul telefono faceva il primo download così dal play store e poi in gioco fa il suo download effettivo di tutte tutte le varie cose oh che figo si ruota automaticamente lo schermo su screenspy che è il problema che sto utilizzando per fare il broadcast del mio telefono sul pc ok e qui possiamo vedere la velocità di download 26 28 30 anche qui abbastanza instabile però qua parliamo adesso di server blizzard e come vi dicevo prima scaricare da battle.net a volte è uno strazio infatti hanno dei server che fanno veramente bene comunque devo dire che anche 40 megabyte al secondo il wifi per un telefono non è per niente male diciamo che è accettabile non sembra che ci metta che ci metta tanto non dà un tempo stimato però allo stesso tempo sembra che sia abbastanza veloce cioè sta già quasi finendo manca ancora un gigabyte non ci dovrebbe mettere molto però comunque non ho voglia di aspettare ok e questo quanto riguarda la velocità di download e la velocità comunque di connessione in 5G ma adesso vediamo la differenza che c'è tra questa in 5G che raggiunge 1200 megabit al secondo con la connessione wifi 6 normale a 2.4 quindi adesso mi sto connettendo all'SSD wifi 6 sempre come da vedere qua dall'iconcina però anziché essere 5G è wifi normale 2.4 vediamo subito la velocità di connessione che è droppata a 286 megabit per second quindi se avete un dispositivo che si connette sì in wifi 6 però non si connette alla rete 5G avrete un notevole drop di di un gigabit praticamente di 1000 megabit perché l'altra riesce a raggiungere i 1200 e questo è soltanto 286 megabit al secondo infatti se faccio uno speed test adesso con questo wifi noterete che sarà particolarmente lento a stento riesce a raggiungere i 200 i 150 addirittura stessa cosa per l'upload ovviamente il ping tuttavia rimane invariato l'unica cosa che cambia è la velocità di trasferimento dei dati quindi download e upload quindi quando possibile preferite sempre la connessione 5G e non quella 2.4 la 5G arriva a 1200 e quando facciamo uno speed test con questa abbiamo una connettività direttamente migliore g3 ms1 pazienza comunque come ping 20 anziché 21 un ms in meno niente di che ma la differenza enorme sostanziale è appunto nel download e nell'upload soprattutto nel download 836 megabit al secondo nel download comunque sia io preferisco tenere questo in megabyte al secondo giusto per avere una comparazione diretta potete vedere 100 megabyte al secondo riesce a farli tranquillamente solo che il play store a quanto pare non riesce ad arrivarci tanto meno il server blizzard per airstone e ora giusto per completezza vediamo quanto mi fa la rete mobile che ho ancora wind come rete mobile spengo il wifi adesso sono in 5G con la rete mobile sempre il stesso server in 5G della wind fa neanche 50 megabyte al secondo quello che schifo il ping è 8ms di jitter con la 5G di wind e l'upload è vergognoso 3 megabyte al secondo di upload questa diciamo è la connessione che mi ritrovo quando non sono a casa invece a casa per frisco tenere sempre il wifi acceso e sebbene sia più lento nelle altre stanze è comunque meglio della 5G della wind facciamo un ultimo speed test con il wifi giusto perché è bello vedere boom guardatela 100 megabyte al secondo è bellissimo è troppo soddisfacente non so per quale motivo il jitter adesso è 6 è aumentato così tanto però potete vedere 106 megabyte al secondo 28 megabyte al secondo di upload fantastico e questo era lo speed test da telefono farei anche lo speed test di di quel sito là di download del file da 100 giga ma capite bene che non ho 100 giga di spazio sul mio telefono volendo posso fare il test però con il file da da 1 giga eccolo qua 1 giga ok come potete vedere il download è molto ma molto veloce scarica 51 megabyte al secondo 44 più o meno la stessa velocità del play store alla fine ci ha messo più o meno lo stesso tempo solo che Asphalt 9 era 2 giga anziché 1 giga quindi ci ha messo di più ok e questo diciamo che conclude i test del wifi e adesso per diciamo concludere questo video vi faccio anche un piccolo tour di questo router perché è un router un pochettino particolare diciamo che è un router diverso dai classici router che ho avuto finora questo come vi dicevo all'inizio del video è un router della Asus con precisione è l'Asus ROG GT AX6000 è un router che costa anche un pochettino però è abbastanza buono ha una porta One da 2.5 gigabit una porta LAN da 2.5 gigabit e poi 4 porte LAN da 1 gigabit massimo e poi ha anche una porta usb 3.0 e una porta usb 2.0 molto utili nella porta usb 3.0 ho collegato un hard disk usb esterno e qui appunto andiamo poi nelle specifiche particolari di questo router permette di fare ad esempio file sharing di creare un server ftp e creare anche un server samba e poter appunto utilizzare qualunque hard disk usb come hard disk di rete è molto molto buona come feature un'altra feature molto bella di questo router ad esempio è il vpn infatti non l'ho ancora testato però è possibile creare un server vpn direttamente dal router stesso una cosa interessante è la configurazione di questo router mi ha fatto un pochettino impazzire ci ho messo un po' ci ho messo quasi un'ora per farlo funzionare quando quando è arrivato perché all'inizio la prima cosa da fare se avete come me una connessione in fibra ottica con un ond che va collegata alla porta one del router il router poi va configurato appunto dalla sezione one tuttavia io l'ho configurato nel seguente modo ho messo connection type pppo ho attivato il NAT ho lasciato poi tutto invariato e ho messo i dati poi del mio ESP ho messo internet detection ppp echo questo potrebbe anche variare in base al vostro gestore e poi ho fatto apply e non si voleva connettere in nessun modo ogni volta che andavo nella dashboard mi diceva internet status disconnected e non funzionava internet avevo già capito qual era il problema ovvero il vlan id che dovevo impostarlo e metterci 835 il problema è che non riuscivo a capire dove va configurato dove va messo in questo router e quindi giusto per evitarvi rogne nel caso voleste prendervi questo router e utilizzarlo appunto come router principale e connetterlo alla one all'ont quello che avete la vlan id si trova in lan iptv come isp profile mettete manual setting e quindi internet vid ovvero vlan id mettete la vlan che del vostro gestore nel mio caso è 835 e poi dove dice use dhcproutes di default è messo su microsoft e voi mettete disable e poi fate apply il router si riavvierà e poi magicamente fuserà internet ci ho messo quasi un'ora per trovare questa cosa e quindi ci tenevo proprio a farvi vedere dove va messo la la vlan id su questo router perché perché in questo modo vi ho risparmiato un'ora di cercare 200 menu poi network map qua possiamo vedere appunto la nostra situazione della rete locale possiamo vedere qui la configurazione del wifi 2.4 2.4 gigahertz anche 5 gigahertz il motivo per cui ritengo entrambi è perché ci sono dei dispositivi che utilizzano soltanto il 2.4 e non rilevano la 5 quindi devo tenerli per forza entrambi attivi e poi ovviamente qua possiamo mettere la password poi qua sopra fa vedere i piedi dns che io ho censurato in questo modo molto creativo qua sotto fa vedere poi la lista dei clients ovvero dei dispositivi collegati al router poi abbiamo anche l'usb 3.0 e ci fa vedere cosa c'è collegato siccome c'è questo menu a tendina e c'è una sola porta usb 3.0 mi viene da pensare che mettendo un hub usb alimentato sia possibile collegare più harddisk di rete e questo è un esperimento che voglio provare a fare anche perché un hub alimentato ce l'ho quindi devo soltanto trovarlo e collegarlo al router e fare la prova con altri harddisk e vedere se riesco a farli diventare tutti di rete la cosa molto bella poi è appunto poter condividere l'harddisk di rete tramite server ftp io già questa cosa l'ho fatta l'ho testata con i miei amici e funziona alla grande ho creato gli account ftp per loro e così possono accedere al loro account avere le loro cartelle completamente personali a cui gli altri non possono accedere in nessun modo andando su usb application infatti server center qui abbiamo la configurazione del network place samba che sarebbe quello locale e poi l'ftp share questo si configura tramite ai disk sempre da usb application e qua potete vedere abbiamo i diversi account che ho creato e ogni account ha poi i permessi specifici per le proprie cartelle a cui può accedere ovviamente abbiamo poi anche la possibilità di creare un login anonimo nel caso volessimo mettere un ftp pubblico per tutti possiamo mettere questa cosa qui username e password non saranno necessari per accedere all'ftp diventa un ftp aperto ma questo ovviamente a me non interessa a me interessa crearlo con vari account così ognuno ha username e password nessuno può entrare anche se sgamano dovessero sgamare il dns e provare a connettersi senza username e password non possono entrare in nessun modo è importante adibilitare anche il one access nel caso volessimo fare l'ftp appunto che vada online accessibile dal remoto ovviamente la porta 21 viene automaticamente gestita dal router stesso non bisogna aprirla non bisogna fare port forwarding invece per il samba anche qua abbiamo la creazione di diversi account però questa è una cosa che funziona soltanto nella rete locale e poi abbiamo la funzione di media server che è una cosa di windows media player io ho provato a setapparlo però non funziona non so come farlo funzionare abbiamo poi il game acceleration che praticamente prioritizza i pacchetti dei giochi in teoria dovrebbe ridurre così la latenza io l'ho provato e mi ha dimezzato la velocità di internet in una maniera assurda quindi questo di qua lo tengo spento e non lo utilizzo per niente potrei provare volendo questo però sarebbe un vpn eccetera eccetera queste sono feature che non mi interessano per niente perché ho provato questo soltanto ho fatto lo speedtest e mi faccia tipo 500 quindi subito no via non mi interessa poi un'altra cosa interessante l'ipv6 ho provato a configurarlo in teoria dovrei metterlo statico ppp e metterci l'ip statico che mi ha dato a ruba però quando poi ho provato a fare ho provato a fare questa cosa non riuscivo più a entrare nel router ho dovuto resettarlo tutto e non mi andava più internet quindi alla fine per ora ho lasciato perdere l'ipv6 non lo utilizzo per ora più avanti se riesco a configurarlo eventualmente lo utilizzerò il firewall è una cosa normale di qualunque router il port forwarding in questo router si fa da one virtual server port forwarding e qui possiamo mettere appunto le varie porte add profile mettiamo un nome al port forwarding la porta e l'indirizzo ip che si può scegliere da questo modo attenti è accomodissimo io ho anche fatto una cosa ho fatto il binding dell'ip del mio pc all'indirizzo mac del pc in questo modo ho un ip locale statico che non mi cambia mai sia che sono su windows che su linux ho sempre lo stesso ip quindi è comodissima come cosa questa cosa qui l'ho fatta andando su network map ho cliccato sull'icona dei client e quindi sul mio pc a questo punto ho poi abilitato il mac and ip address binding come potete vedere qui enable this button to bind specific ip with mac address of the device questo praticamente collega l'indirizzo ip all'indirizzo mac quindi questo indirizzo mac qui non cambia perché è proprio l'hardware della scheda di rete del pc e di conseguenza avrà sempre questo ip qui qualunque sistema avvio sul mio pc visto che faccio dual boot con windows 11 e arch avrò sempre questo ip locale senza doverlo impostare manualmente da network and internet e da quashire in center senza doverlo impostare manualmente da qui qui lo tengo automatico però allo stesso tempo in realtà è statico perché l'ho reso statico proprio dal router direttamente e questo penso sia tutto quello che c'è da vedere di questo della web UI di questo router è un router molto bello dicevo esteticamente a me non piace però a livello di funzionalità devo dire che è fantastico e poi è l'unico router con il quale finalmente riesco ad arrivare ai 2.3 2.4 gigabit per second sul mio pc via ethernet per qualche motivo steam e origin non raggiungono neanche 200 megabit per secondo al momento però probabilmente qualche giorno ci arriveranno già il picco origin me l'ha fatto di 200 però non lo so vedremo e penso che questo possa essere tutto per quanto riguarda questo video come avete visto è un video un po' più lungo rispetto ai vecchi speed test che ho fatto anni fa con le reti fast web team però diciamo che è un video molto interessante perché vi fa vedere una 2.5 gigabit al momento come in Italia o almeno come qui giù in Sicilia potete vedere che è decente se avete anche l'hardware giusto ovviamente perché prima che comprossi questo router ho avuto problemi enormi con questa linea quando sono venuti ad attivarmi la linea mi hanno portato un router che aveva una sola porta one da 2.5 gigabit e due porte LAN da 1 gigabit quindi io avevo il bottleneck del router che mi andava a massimo a 1 gigabit su qualunque dispositivo connettessi via ethernet l'unico che ci andava bene arrivava a 100 minuti al secondo era il telefono nel wifi avevo quindi poi provato a collegare il pc direttamente all'hont e creare una mini port e allora ero riuscito ad arrivare più o meno a 1.4 gigabit per second per qualche motivo non so per quale motivo non avevo i 2.5 nella mini port mi segnava 1.4 e infatti negli speed test arrivava massimo a 1.2 1.3 e steam scaricava a 120 140 massimo qualche volta arrivato a 140 ma niente più di quello adesso arriva anche a 170 180 voglio dire è un pochettino meglio ed è anche più stabile il problema della mini port però era che dovevo tenere hyperviattivo perché la mia scheda di rete non aveva non ha il vlan id modificabile e quindi non potevo utilizzare la mini port normalmente e poi non potevo far connettere il portatile di mia madre a internet perché l'hont ha una portatile sola e non potevo collegarlo in nessun altro modo problemi su problemi ho poi provato a utilizzare un altro router ho utilizzato il team hub che avevo all'epoca di team andava decentemente anche quello limitato a un gigabit soltanto purtroppo poi finalmente mi sono deciso cerchiamo un router che abbia almeno due rj45 da 2.5 gigabit una one e una lan ho trovato questo l'ho visto in offerta su amazon l'ho preso immediatamente finalmente eccomi qua 2.4 gigabit sul pc collegato via ethernet alla grande quindi ho avuto questi problemi con la nuova linea per questo motivo ho anche ritardato a creare questo video perché volevo che funzionasse tutto perfettamente e finalmente ce l'ho fatta ho fatto il video spero che vi sia piaciuto spero che sia stato utile soprattutto a chi volesse vedere dei veri risultati di una linea 2.5 gigabit non soltanto speed test fatti così a a caso senza spiegazioni senza niente perché ci tengo a fare dei video quanto più completi possibile e anche per questo motivo faccio pochi video perché non ho molto tempo da dedicarci ma spero che riesco a riprendere un po' il vecchio ritmo e a fare un pochettino più video come li facevo una volta spero di riuscirci non posso garantirlo ma spero di riuscire a tornare un pochettino più stabile nella produzione di video qui su youtube sia su questo canale che anche su quello mio principale elia elia 1295 e anche il canale quello nuovo quello internazionale elia 1295 games and fun detto questo ragazzi spero che il video sia stato utile e vi sia piaciuto iscrivetevi se non siete iscritti lasciate un like commentate fate quello che volete noi ci becchiamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti